Iniziamo, benvenuti appunto a tutte e a tutti a questa assemblea Zoom. Come avete visto dal titolo, il tema di questa serata sarà ciò che appunto è accaduto in Afghanistan e partiremo da questo tema per poi ovviamente sarà uno spunto di riflessione per vari altri temi e cercheremo di analizzare ciò che è accaduto in un'ottica di classe. Noi pensiamo che ciò che è accaduto in Afghanistan si tratti di una sconfitta dell'imperialismo e alla nostra impostazione pensiamo appunto che l'imperialismo non sia altro che la fase evolutiva, la fase superiore appunto del capitalismo. Difatti nel modello imperialista assistiamo a non altro che in modo semplice ad una ripartizione del mondo tra i differenti paesi imperialisti. E ad oggi l'imperialismo, non ad oggi semplicemente, ma il modello economico ha necessità appunto di colonizzare tutti quelli che sono i paesi dipendenti e i paesi sottosviluppati. Se prima quindi il colonialismo veniva fatto insediandosi nei territori, con le armi e mettendo dei governi fantoccio, ad oggi invece si protrae questo modello semplicemente attraverso lo spostamento di capitali o l'acquisizione da parte di alcuni mercati da parte di alcuni paesi. Quindi capiamo che il colonialismo non è altro che un modello necessario, economico necessario appunto per l'imperialismo. Ciò che è stato a Kabul, come ho detto prima, è stato un fallimento del capitalismo e dell'imperialismo e il trionfo invece dalla resistenza nazionale afghana. Il problema è che mancando una direzione rivoluzionaria in Afghanistan ci troviamo appunto con l'instaurazione di una dittatura teocratica. Noi pensiamo però che da questa sconfitta possiamo prendere le varie lezioni per la classe operaia a livello internazionale. Prima fra tutte il fatto che l'imperialismo non è invincibile e che anzi possa essere sconfitto appunto attraverso una resistenza. Un'altra lezione che penso che si possa appunto capire è il fatto che la resistenza purtroppo non basta e che al contempo bisogna appunto costruire un'organizzazione della classe radicata appunto nelle masse che possa dirigere questa resistenza, che possa realmente portare a compimento quella che è la sfida rivoluzionaria. Ci sono tanti esempi a livello storico sul fatto che appunto senza direzione rivoluzionaria la rivoluzione in certo senso viene fatta a metà e quindi in questo caso appunto vi è una dittatura, in questo caso appunto teocratica. Ma pensiamo anche ad altri esempi come possono essere appunto le primavere arabe dove appunto dopo un grande momento di ascesa rivoluzionaria vediamo non so in Tunisia dove assistiamo appunto a una miseria e pubertà, vediamo in Egitto dove vi è una dittatura militare, in Siria dove vi è una guerra che ormai dura da anni e quindi l'importanza di costruire questa direzione rivoluzionaria. Il compito della classe operaia secondo il nostro parere in questo momento la classe operaia sudana è quella di condurre una lotta, un'altra lotta contro questa dittatura e costruire un'alternativa non solo politica ma anche di sistema e pensiamo che l'unica via reale per uscire appunto da questo stallo appunto di misere e di povertà che protrae il sistema capitalistico è quello di abbatterlo e di costruirne appunto un nuovo. Niente, quindi adesso dopo questa piccola, tre linguette, introduzione do la parola ad Alberto che appunto è un militante del Paese di Alternativa Comunista e appunto fa parte del Comitato Centrale. E niente, vi do la parola. Intanto ringrazio Ines dell'introduzione, ha già detto parecchie cose lei, insomma è stata una breve ma molto efficace appunto spiegazione di quello che è avvenuto dall'analisi che noi facciamo e dal tipo di proposta che avvantiamo di fronte a questa nuova situazione. Penso che più o meno tutti e tutte abbiamo visto le immagini a cavallo di agosto, del mese di agosto e di ferragosto, della fuga ignominiosa da Kabul e dall'aeroporto delle truppe dell'imperialismo, una fuga, una rotta disordinata insomma di questi eserciti, di queste superpotenze economiche internazionali che hanno creato questa situazione, questa fuga inevitabilmente al di là della volontà e di quello che potrà capitare nell'immediato futuro, ha creato un danno enorme politico e militare e anche di immagine, perché sappiamo che l'immagine da un certo punto di vista ha un'importanza per suscitare o limitare le aspettative delle masse rivoluzionari, della classe rivoluzionaria, insomma delle popolazioni oppresse, la fuga degli imperialisti americani e dei loro alleati minori, ma non per questo meno voraci come le truppe italiane, francese, della Gran Bretagna e della Germania. Secondo gli auspici dei politici, dei commentatori, degli analisti mainstream, il ventesimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle che appunto si è verificato vent'anni qualche giorno fa, l'11 settembre del 2001, non è stato festeggiato secondo i loro auspici. doveva segnare la vittoria, la consacrazione definitiva del progetto del nuovo secolo americano, questa teoria, questa analisi, impostazione, lanciata dall'amministrazione Bush agli inizi del ventunesimo secolo che aveva dovuto appunto sancire dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica e prima del crollo del muro di Berlino, la vittoria definitiva del capitalismo e della democrazia cosiddetta borghese ai quattro angoli del mondo. Ecco, questo progetto possiamo dire che se non è fallito definitivamente sicuramente ha subito un colpo molto importante dal quale è molto complicato, difficile che l'imperialismo ne possa uscire. L'idea appunto di un mondo dominato dagli Stati Uniti e dagli altri alleati minori delle potenze economiche più avanzate. Il là, diciamo, la giustificazione formale agli occhi delle opinioni pubbliche internazionale che diede via a questo progetto fu l'attentato alle Tori Gemelle e al Pentagono dell'11 settembre 2001. Apro le parentesi su quel fatto, su quello che è successo. Da un certo punto di vista in alcuni settori che avevano combattuto negli anni la prepotenza, l'aggressività e la brutalità della potenza americana, questo tipo di attentato aveva avuto una certa simpatia. Nel senso si diceva, sì, è stato un atto brutale, però gli Stati Uniti sono stati colpiti con la loro stessa moneta, siccome loro vanno in giro per il mondo a massacrare e bombardare le popolazioni, appunto i quattro angoli del globo, alla fine dei conti sono stati ripartiti dalla stessa moneta. La LIT, l'organizzazione della quale appunto il Partito di Alternativa Comunista e Sezione Italiana, all'epoca diede un giudizio molto netto di condanna di questo atto. Noi in quegli anni non eravamo ancora alla sezione militanti della Lega Internazionale dei Lavoratori, però possiamo dire che siamo arrivati alle medesime conclusioni. La LIT, noi possiamo dire che condannammo all'epoca l'attentato, che era un attentato brutale, violento, e che soprattutto causò la vita di migliaia di... la morte, costò la vita migliaia di proletari, di diverse nazionalità che lavoravano in diversi modi nelle torri gemelle e causò anche diverse migliaia di feriti. Inoltre il nostro giudizio, al di là dell'atto specifico, è un giudizio politico negativo, di rifiuto delle azioni terroristiche, perché noi pensiamo che chi vuole sostituire al paziente, duro e molte volte può sembrare frustrante, il lavoro di costruzione di un'organizzazione rivoluzionaria, di quell'organizzazione di classe, come diceva Ines nell'introduzione, che da sola può creare le condizioni, perché le azioni, le sollevazioni rivoluzionari possono arrivare vittoriose. Ecco, chi pensa, con delle scorciatoie, con degli atti eclatanti, simbolici, con l'azione individuale, appunto, superare questo tipo di percorso che, ripeto, può sembrare lungo e a molte volte frustrante e di risolvere i problemi di un colpo dalla sera alla mattina in un colpo solo, purtroppo non fa i conti con la realtà. Sostituire all'azione di massa, organizzata di massa, l'azione individuale, per quanto condivisibile in astratto, per quanto possa sembrare eroico e romantico, in realtà non è un altro modo per arrivare allo stesso obiettivo, ma è proprio un altro tipo di percorso politico, che in realtà, come abbiamo visto anche in occasione dell'attentato alle torri gemelle, rafforza l'avversario, il nemico di classe, che nella prospettiva di chi compie queste azioni si vuole indebolire. Purtroppo, appunto, la storia ci ha dimostrato che scorciatoie per il trionfo della rivoluzione non esistono. E appunto abbiamo visto in quei giorni che agli occhi di ampi settori di opinione pubblica interna agli Stati Uniti, ma non solo, quell'atto fu la giustificazione che venne utilizzato come giustificazione per arrivare a quella guerra di aggressione e appunto quella politica che venne denominata guerra al terrore, ma che in realtà appunto non aveva altri motivi reali se non quelli di consolidare, di costruire il dominio imperialista a livello internazionale. Le ragioni che spinsero alla guerra in realtà appunto non erano quelle di rispondere a un atto brutale e di andare a stanare, a sconfiggere i terroristi là dove si erano rifugiati e dove avevano iniziato e organizzato le loro azioni. Ma erano ragioni più prosai, meno spendibili dal punto di vista della propaganda per ottenere il consenso dell'opinione pubblica che era appunto quello di consolidare, di costruire il potere in un'area molto importante per il imperialismo. Ricordo di aver letto e l'ho trovato navigando un po' sulla rete in questi giorni un articolo dell'estate del 2001, se non sbaglio era fine luglio, inizi di agosto del 2001, di un giornalista della stampa, un noto che è mancato un po' di tempo fa, Giulietto Chiesa, penso che molti di voi se lo ricorderanno, insomma che al di là del percorso piuttosto diciamo bizzarro per così dire, che l'ha portato negli ultimi anni della sua vita, era uno che studiava, che conosceva, analizzava bene la situazione in quell'area che raccontava che appunto già nell'estate del 2001 c'erano dei piani molto dettagliati che da parte dell'amministrazione militare e politica americana che spingeva per scatenare una guerra di aggressione in Afghanistan in tempi molto brevi. Come tutte le guerre appunto serviva il pretesto, così come per scatenare la prima guerra mondiale il pretesto fu l'attentato all'arciduca dell'Australia e della consorte, ma appunto le ragioni erano più profonde, lo stesso è avvenuto per quella azione, per le guerre che si sono seguite. Perché all'Afghanistan è una prima domanda secondo noi che dobbiamo farci e che dobbiamo porci? Perché proprio lì e non in un'altra parte, ma se guardiamo, qualcuno ha avuto occasione in questi giorni di controllare, di vedere la cartina geografica dell'Asia, il posto dove l'Afghanistan è situato, è in una zona molto strategica, in una zona di unione, di congiunzione tra il medio e l'estremo Oriente, in una situazione che permette di controllare la Cina, l'India, il Pakistan, la Russia e lo Stai l'Iran nella sua parte occidentale, quindi un punto, una zona dove l'imperialismo se fosse riuscito a insediarsi aveva la possibilità di controllare, di mettere un freno alle ambizioni di crescita e di espansione economica non solo di quei paesi. Ricordiamo soprattutto che nel 2001 la Cina e la Russia di allora non erano la Cina e la Russia che conosciamo adesso, quindi la Russia era appena uscita da dieci anni dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e la fine del decennio elzignano aveva provocato dei disastri e la Cina non era quella che conosciamo oggi, quindi installarsi in quella zona poteva consentire all'imperialismo nei suoi auspici di essere un punto di controllo e di limitare lo sviluppo di queste due potenze. Dall'altro lato c'erano degli interessi più prosaici, più materiali di controllo di materie prime delle quali quel paese è fornito da terre rare e giacimentali di idrocarburi e inoltre di avere il controllo nella costruzione e nello sviluppo di un gasdotto che avrebbe portato appunto il gas da quelle zone a un porto del Pakistan che è un paese alleato stretto degli Stati Uniti e quindi avere un controllo economico di una zona molto importante. Quindi questi sono stati gli interessi politici ed economici che hanno spinto a quel tipo di guerra e a quel tipo di decisione. Le stesse ragioni che mutati e smutandi due anni dopo spinsero l'amministrazione americana e sempre i suoi alleati a scatenare un'altra guerra a un'altra aggressione a un altro paese come l'Iraq anche lì la scusa ufficiale era quella di cacciare un dittatore brutale che secondo la propaganda dell'epoca era dotato di armi di distruzione di massa con le quali avrebbe messo in discussione pericolo la pace nel mondo ma in realtà le ragioni erano diverse il controllo appunto di importanti risorse di idrocarburi in un'area molto ricca di questa materia prima ad esempio prima dell'aggressione e della guerra all'Iraq nel gennaio se non sbaglio gennaio-marzo del 2003 il governo di Saddam Hussein aveva sottoscritto un accordo molto importante con un'azienda di idrocarburi russa per lo sfruttamento di alcuni giacimenti del paese una volta cacciato Saddam Hussein e il regime che lo steneva quel contratto venne cancellato venne disdetto e subentrarono a questa azienda statale russa delle imprese delle multinazionali del delle multinazionali del petrolio americano e anglo-olandese la ragione per quelle guerre non fu neanche tra le varie cose che sono state raccontate nella propaganda quella di colpire di andare a colpire i terroristi quelli che avevano appunto scatenato questa guerra terroristica nei confronti delle cosiddette democrazie occidentali come già all'epoca dell'attendato delle torri gemelle poi come si è visto in seguito in realtà erano altri se vogliamo gli stati che sponsorizzavano e che sostenevano queste organizzazioni terroristiche che le finanziavano in maniera molto consistente quindi la scusa era appunto una questione molto banale da poter spendere agli occhi dell'opinione pubblica ma non era neanche ma non era nemmeno una cosa reale così come l'obiettivo non era quella di esportare la democrazia e tutelare i diritti di quelle popolazioni che in effetti erano costrette a vivere sotto regimi brutali come quelli dei talebani che si instaurò dal 96 al 2001 appunto in Afghanistan e quello di Saddam Hussein che da una ventina trentina d'anni controllava controllava l'Iraq quanto appunto le preoccupazioni dell'imperialismo non fossero quelle di difendere i diritti umani l'abbiamo visto dopo nel comportamento che queste superpotenze hanno avuto in occasioni delle delle primavere arabe delle rivoluzioni che ci sono state in tutto il medio il Medio Oriente il Nord Africa in cui l'imperialismo ha fatto di tutto per difendere quei regimi che contro le quali le masse si stavano ribellando e poi per cercare di finanziare di sostenere militarmente non solo quelle forze come i militari in Egitto che si proponevano l'obiettivo di riportare l'ordine borghese l'ordine imperialista in 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 quegli stati così come appunto non si gli imperialisti non si sono mai preoccupati della difesa dei diritti umani in Arabia Saudita o nelle altre petromonarchie della penisola arabica che appunto sono l'esempio classico l'embrema di quanto i diritti umani i diritti dei giovani e soprattutto delle donne vengano calpestati giorno dopo giorno quindi tutta questa propaganda appunto era stata spesa con un certo successo visto gli eventi del 2000 del 2001 per giustificare una mera operazione di potere lanciata dalle potenze economiche imperialiste imperialiste occidentali e quindi questo è un po' il quadro alcuni tra i commentatori più meno illusi più disincantati hanno cercato di giustificare questo tipo di azione in questo modo nel senso dire sì sappiamo che la guerra è stata l'aggressione all'Afghanistan e successivamente all'Iraq è stata fatta per motivi terra a terra di controllo e di potenza e di potenza economico tuttavia al di là della volontà che ha spinto a fare questo tipo di azioni in Afghanistan prima e in Iraq dopo si sono creati dei regimi tutto sommato più democratici più liberali meno oppressivi di quelli precedenti le condizioni di vita tutto sommato sono migliorate quindi al di là delle motivazioni che hanno spinto a questo tipo di azioni la situazione concreta aveva portato a un miglioramento delle condizioni di vita delle masse in realtà se noi studiamo leggiamo un po' le cronache dei vent'anni le informazioni che soprattutto in questo periodo sono circolate le cose sono andate molto diversamente anche in questo caso rispetto a quanto la propaganda ufficiale la propaganda mainstream ci voglia raccontare anche qui non c'è nulla di nuovo è stato Trotsky insomma il dirigente fondatore della Guardia Internazionale dai dirigenti i massimi dirigenti fondatori della rivoluzione d'ottobre è uno dei massimi dirigenti del partito bolshevico alla metà degli anni trenta durante in occasione di un'intervista rilasciata a un giornale sudamericano diceva che le guerre non erano all'epoca e quindi anche il futuro le guerre non erano tra democrazie e dittature non si all'epoca si parlava di un'eventualità di una ipotetica scontro militare tra la Gran Bretagna e il Brasile e Troi che era governato da un regime semidittatoriale autoritario molto duro Trotsky diceva in realtà la questione in ballo all'epoca in quell'occasione non sarebbe stata tra democrazia e dittatura ma tra la possibilità la volontà dell'imperialismo di consolidare di imporre il proprio controllo nei confronti di un determinato paese e in quel caso appunto il Brasile Trotsky aggiungeva nel caso gli imperialisti dove l'imperialismo inglese dovesse vincere questa ipotetica guerra contro il Brasile sostituirebbe a un dittatore un altro e le condizioni concrete materiali di vita delle masse brasiliane non cambierebbero di una regola ed è quello che è successo in Afghanistan noi abbiamo visto e spiega in parte una buona parte il fallimento dell'aggressione e dell'operazione militare statunitense abbiamo visto che le condizioni di vita delle masse di milioni di afghani appunto non sono migliorate di una virgola le migliaia di miliardi che sono stati spesi per finanziare questa guerra di queste cifre immensa si parla dai 2300 ai 2600 miliardi di dollari in vent'anni appunto una cifra spaventosa solo una minima parte è stata spesa direttamente investita per consentire tra virgolette lo sviluppo del paese ma in realtà una cifra molto infinitesimale molto più bassa molto bassa rispetto a questa enorme somma che è stata spesa in vent'anni ma della quale non hanno beneficiato le donne i giovani i lavoratori i contadini afghani hanno beneficiato quei settori che appunto hanno sostenuto la guerra hanno sostenuto sono stati al fianco degli invasori degli occupanti americani ed europei quella cricca diciamo di governo del governo che ha sostenuto il governo fantoccio di Caldai prima e di Ghani poi che appunto ha beneficiato delle briciole che l'imperialismo ha lasciato ha lasciato in questi in questi vent'anni ho letto in questi giorni un articolo di un nostro dirigente argentino brasiliano che dalla nostra internazionale il compagno Martino Hernandez di un articolo appunto scritto nel 2001 in occasione della guerra in Afghanistan nella quale diceva faceva un'analisi del paese diceva in Afghanistan esistono soltanto al momento all'epoca appunto vent'anni fa due fabbriche credo non ci sono dati precisi che la situazione sia rimasta uguale se le fabbriche impiantate dall'imperialismo invece di due sono diventate tre però appunto la volontà non era quella di consentire di permettere uno sviluppo uno sviluppo del paese ma appunto di consentire all'imperialismo di occupare una zona strategica per i propri per i propri interessi così come non è migliorata di una virgola la condizione delle donne afghane perché un appunto della parte maggiore della propaganda a difesa tutto sommato dell'occupazione e dell'azione militare di questi di questi vent'anni è che il regime talebano e questo sicuramente è vero era un regime oscorantista che trattava senza il minimo riguardo senza il minimo interesse per le sue condizioni la donna e le donne in Afghanistan invece il nuovo governo sostenuto e sponsorizzato dall'imperialismo internazionale consentiva consentito un salto in avanti un miglioramento considerevole delle condizioni di vita delle lavoratrici anche qui se guardiamo un po' sfogliamo su internet sui vari siti che cercano di fare le analisi un po' più oneste un po' più accurate della situazione vediamo dei resoconti che ci raccontano appunto che nei vent'anni di occupazione militare di governo fantoccio a soldo degli Stati Uniti e degli europei le condizioni di vita delle donne non sono migliorate le donne hanno continuato a essere oppresse a vivere senza nessun tipo di diritto vivere sotto l'oppressione del maschio del marito dei parenti appunto maschi nella loro nelle loro condizioni di vita un sito molto informato su questa questione delle donne rivoluzionarie associazione delle donne rivoluzionarie afghane ci raccontava come il fatto che le donne venissero vendute al mercato all'asta per sposarsi per vivere con un maschio vendute all'asta appunto come degli animali come delle proprie schiavi era un'abitudine che in questi vent'anni non si è modificata e quindi questa dimostrazione che anche qui al di là della propaganda che viene fatta delle fotografie di qualche giornalista di qualche deputata al Parlamento in Afghanistan anche di questi anni per milioni di donne la situazione non era non era appunto appunto cambiata e da questa situazione appunto fatta di miseria violenza un regime oppressivo anche se la propaganda l'aveva fatto sponsorizzato come liberatore della popolazione afghana una violenza che veniva continuava a essere perpetrata ha fatto sì che si creassero quelle condizioni appunto per che i talebani riprendessero forza e il governo ufficiale fantoccio degli statunitensi perdesse sempre più il sostegno del il sostegno della della popolazione quindi sono venuti si sono venuti a creare le condizioni per la sconfitta politica e militare che abbiamo visto in questi in questi anni le condizioni si sono create anche all'interno stesso degli stati uniti del maggior diciamo sostenitore e organizzatore e finanziatore di questa di questa aggressione se noi vediamo che a partire dal 2009 2010 sotto l'amministrazione Obama che si è cominciato a parlare di fine dell'occupazione pensare a come uscire a staccarsi da quella situazione vediamo che sono gli anni in cui esplosa la crisi economica internazionale che ha colpito profondamente l'impedialismo l'economia statunitense quindi si sono create le condizioni per far sì che per l'imperialismo non fosse più sostenibile anche per ragioni interne di continuare appunto a spendere risorse a mandare soldati per occupare uno stato con ragioni che da molti anni non erano più chiare che non erano più sostenibili agli occhi dell'opinione pubblica quindi dal 2010 si è avuto una situazione in cui l'imperialismo e il suo governo fantoccio si indebolivano sempre di più e i talebani invece che si pian piano si riproponevano come i normalizzatori e i veri liberatori del popolo afgano riprendessero voce riprendessero forza e sostegno tra le masse e tra la popolazione tra la popolazione afghana facciamo un po' in salto perché il tempo sta scorrendo velocemente si è arrivati agli accordi di Doha tra l'amministrazione Trump e il governo talebano del marzo del 2020 in cui si è creato si sono create le condizioni per il passaggio di potere più o meno pacifico più o meno concordato tra le truppe statunitensi e appunto il regime dei talebani intanto quello stesso accordo è stato quel tipo di accordo che ha favorito e che ha consentito il crollo diciamo la fuga ignominiosa degli statunitensi delle truppe statunitensi e il crollo del regime afgano afgano ufficiale cioè il governo che doveva che controllava formalmente il paese non è stato parte di quegli di quegli accordi quindi una volta decise che gli americani e i talebani chi sarebbe stato il nuovo dominus di quell'area è chiaro che tutta la parte politica e militare e amministrativa che sosteneva de fatto il governo ufficiale si è sfaldata perché si rendeva si sono resi conto che appunto il governo ufficiale non aveva più nessun potere nessun controllo e che quindi anche i 300.000 militari che sostenevano che sostenevano il governo si sono rapidamente dileguati e sono passati agli ordini dei nuovi dei nuovi padroni della situazione quindi questo è un po' il quadro che si è verificato che ha avuto il suo apice di immagine e formale non solo a ferragosto del 2021 quindi di circa un mese fa e adesso però si pone una questione centrale come diceva Ines nella sua nella sua introduzione cosa succede ora e che tipo di occasioni di opportunità si aprono per i rivoluzionari e quale deve essere il nostro intervento la nostra azione in questa nuova situazione ma intanto il giudizio che noi diamo sulla sul nuovo regime che si è creato sicuramente un giudizio negativo qualcuno ha fatto dei paragoni con con la fuga che delle truppe americane dei marines dall'ambasciata dall'aeroporto di Kabul li ha paragonati alla fuga dei marines all'ambasciata di Stato Unito a Saigon nel 1975 alla fine appunto scusate della guerra del Vietnam in realtà le cose sono molto diverse perché all'epoca la vittoria militare in Vietnam creò le condizioni per creare uno Stato operaio cioè per arrivare alla definitiva espropriazione della borghesia e delle proprietà dell'imperialismo in quel paese in un modo ovviamente che noi non difendevamo un'azione sotto un governo burocratico uno Stato operaio deformato che non era appunto quello al quale noi aspiriamo però era oggettivamente un passo avanti rispetto alle condizioni di vita precedenti mentre oggi non si è creata questa situazione il governo che è il sistema politico economico che si sta stabilendo in Afghanistan risponde alle logiche del capitalismo si è arrivato a scontrare con le maggiori potenze imperialiste per una questione appunto di porti di forza e di controllo del territorio e dell'area ma non è che c'è un progetto politico economico e sociale differente quindi una volta scacciate l'imperialismo come sempre come diceva Ines ci si pone l'obiettivo di come liberare realmente le masse e le donne lavoratrici e gli uomini lavoratori in Afghanistan non lo facevano i talebani non hanno fatto i talebani nel 96 2001 non l'hanno fatto i statunitensi i suoi governanti infatti non lo possono rifare oggi i talebani quindi oggi bisogna creare le condizioni cercare di creare le condizioni in questa nuova fase che comunque è abbastanza instabile perché abbiamo visto che le difficoltà nel formare il nuovo governo e gli scontri che come ci raccontano alcuni commentatori pare che ci siano già subito immediatamente tra regime talebano è probabile che la situazione comincerà a surriscaldarsi anche in Afghanistan quindi è probabile che si porrà nuovo obiettivo l'ordine immediato all'ordine del giorno che tipo di nuovo governo che tipo di soluzione dare alla situazione che si è creata perché i talebani presto o tardi si dimostreranno incapaci di rispondere positivamente anche alle aspettative che avevano creato nella popolazione allo stesso tempo però si pone l'obiettivo di come noi possiamo sfruttare a livello internazionale oltre che l'Afghanistan questa sconfitta eclantante dell'imperialismo a livello internazionale è chiaro che non è automatico però è possibile per non dire probabile che questa rotta e questa disfatta possa riaccendere la volontà di lotta le aspettative le ambizioni di lotta tra le popolazioni oppresse tra le popolazioni coloniali oppresse dall'imperialismo e tra le stesse masse operai e lavoratrici dei paesi imperialisti ha diverse ragioni perché questa sconfitta eclantante è l'ultima di una lunga serie noi vediamo che l'imperialismo è stato sconfitto in Afghanistan ma prima in Iraq ma prima ancora in Sud America perché il progetto di cacciare il regime di il governo di Maduro e porre un rappresentante diretto degli interessi dell'imperialismo americano in Venezuela è fallito ora non entro qui perché non ho tempo sul nostro sito ci sono analisi molto dettagliate noi non rivendichiamo nulla del regime cosiddetto socialista bolivariano in Venezuela tuttavia il progetto di scalzare quel sistema con un rappresentante più propenso a rispondere ai dicta dell'imperialismo statunitense è fallito così come è fallito il tentativo di disarmare e di far cadere il regime della famiglia Kim in Corea del Nord o di far cadere il regime degli Ayatollah in Iran che sono uno dei maggiori avversari a livello internazionale dell'imperialismo si è creata un po' insomma quella situazione di sconfitte che si sosseguono per l'imperialismo una con l'altra e che dimostrano come diceva sempre la nostra internazionale ormai 40 anni fa in occasione della guerra delle Malvine della guerra delle Malvine strada l'Argentina e ancora una volta la Gran Bretagna che l'imperialismo molte volte non fa quello che vuole ma fa quello che può i progetti più o meno eclatanti più o meno importanti di nuovo ordine mondiale si scontrano con le difficoltà politiche economiche e militari dell'imperialismo con la resistenza più o meno attiva di centinaia di milioni di lavoratori di contadini di disoccupati di giovani che non accettano di essere dominati e di essere governati in nome del profitto ma noi crediamo che questa situazione possa anche servire da stimolo e da esempio per le lotte della classe operaia delle masse lavoratrici nelle stessi paesi del cuore dell'imperialismo a livello internazionale cioè penso che noi dobbiamo dire penso che sarà una domanda che i settori più al momento di avanguardia più avanzati ma potrebbe diventare in futuro un sentimento comune che se l'imperialismo è stato sconfitto da un popolo di montanari e di allevatori di piccole come la propaganda razzista occidentale trattava gli afghani beh qualche lavoratore in Italia in Francia negli Stati Uniti potrà dire se sono stati sconfitti là perché non possono essere sconfitti anche da noi soprattutto perché in questi vent'anni non sono mancate soltanto le lotte ci sono state non solo le lotte di resistenza delle popolazioni coloniali ma ci sono stati importantissime lotte di classe di massa di settori di larghi settori di massa e di popolazione nel cuore stesso dell'imperialismo noi tutti ci ricordiamo e abbiamo fatto circa un anno fa un'altra zoom nazionale molto partecipata delle lotte delle mobilitazioni di massa che ci sono state per oltre un mese intero negli Stati Uniti che anche lì sono scaturite dall'omicidio da parte della polizia bianca statunitense per un lavoratore afroamericano ma che sono state la miccia che hanno fatto esplodere tutto il malcontento che da decenni grava e comprime la lotta delle masse e dei lavoratori negli Stati Uniti quindi può essere che questa occasione sia un'occasione di rilancio delle lotte e delle mobilitazioni nei paesi sappiamo come è stato come ho cercato di dire all'inizio che non è semplice se l'obiettivo centrale l'obiettivo fondamentale che fa la vera differenza tra una vittoria definitiva e concreta a una vittoria parziale o ahimè una disfatta non sono tanto o non solo i rapporti di forza tra le classi ma se c'è o meno una direzione coerente una direzione per noi rivoluzionaria un partito di tipo bolshevico un internazionale di tipo bolshevico come pensiamo che sia il nostro piccolo auspica di essere il partito di alternativa comunista e la lega internazionale dei lavoratori che cerca di far comprendere le masse che anche la soddisfazione e il raggiungimento dei propri obiettivi immediati non può essere concretizzato in maniera stabile se non si pone in discussione questo sistema economico un sistema economico politico sociale e militare che come abbiamo visto in vent'anni di occupazione dell'Afghanistan e in altre tanti o qualche anno di meno dell'occupazione dell'Iraq non può portare che miseria non può portare che miseria morte e un ulteriore peggioramento un peggioramento senza fine delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori e che non può portare un peggioramento che altro che un peggioramento nel cuore stesso delle potenze economiche imperialiste perché mentre l'amministrazione americana trovava 2.600 miliardi per finanziare l'occupazione militare dell'Afghanistan e altre tanti per finanziare l'occupazione dell'Iraq non trova soldi per garantire stipendi dignitosi per creare un sistema sanitario nazionale gratuito per affrontare in maniera dignitosa in maniera sufficiente dico dignitosa in maniera degna dal punto di vista sanitario la pandemia che è scoppiata da un anno a questa parte così come l'Italia che in 20 anni ha speso qualche decina di miliardi oltre alle normali spese militari per finanziare le varie guerre di aggressione le cosiddette operazioni di polizia internazionale dall'Afghanistan all'Iraq in Libia ai Balcani poi non trova risorse per garantire appunto il superamento della pandemia della situazione pandemica che stiamo vivendo non trova risorse per finanziare la sanità i trasporti pubblici le pensioni ma chiede sacrifici un giorno sì e l'altro pure non in nome di una astratta legge economica ma in nome delle necessità delle multinazionali e delle ambizioni di potere dell'imperialismo italiano che essendo molto più piccolo rispetto a quello statunitense devono essere proporzionate come impiego di risorse e come impiego di uomini ma non sono appunto meno criminali e meno da combattere ecco io penso che questo credo io o no insomma che questo ci insegnino questi vent'anni e gli ultimi avvenimenti che la pace non si può imporre con le armi e soprattutto non può imporle con le armi l'imperialismo l'imperialismo non può riesce a imporre o tenta di imporre soltanto una miseria una schiavitù una brutalità senza fine e se l'umanità vuole essere liberata di tutti questi mali politici sociali e da un anno a questa parte mi ripeto scusate però penso che sia ancora una questione centrale i mali della sanità di una morte improvvisa ma assolutamente non ma assolutamente evitabile è necessario lottare contro questo tipo di società e contro questo tipo di sistema creando le condizioni appunto per far sì che si costruisca un mondo in cui l'obiettivo non è soltanto quello del profitto prevalentemente soltanto quello del profitto ma di sviluppare l'economia la società e il controllo dell'economia e della società negli interessi nell'interesse della stragrande maggioranza della popolazione quel 99% come dicevamo all'epoca delle giornate di Genova anche in questo caso vent'anni fa quel 99% che appunto rappresenta la stragrande maggioranza della popolazione che non ha nulla è dominato dall'1% che concentra in sé tutto il potere e tutte le ricchezze sappiamo che non è un percorso facile sappiamo che è un percorso lungo ed è per questo che noi stiamo cercando di costruire questo partito questo tipo di organizzazione ed è per questo io credo che l'invito che posso fare alla fine tra le compagnie alle compagnie e i compagni che hanno partecipato a questa Zoom a questa assemblea e che ne hanno partecipato in passato ecco di unirsi a noi in questa in questa lotto cioè il progetto che noi stiamo portando avanti non è di qualche padre fondatore è soltanto di una parte e gli altri si chiede soltanto di portatori d'acqua ma no deve essere un aiuto attivo concreto che noi chiediamo a tutti questi che a tutte le compagnie e compagnie che sono qui stasera ma anche ai compagni che vediamo nelle varie manifestazioni lotte mobilizzazioni domenica sabato saremo alla manifestazione in solidarietà dei lavoratori licenziati della GKN per dire che non c'è soluzione questo sistema non può darci nessun tipo di miglioramento questa guerra oggi è finita ma se noi non sconfiggeremo definitivamente le possibilità ci sono l'imperialismo fra sei mesi fra un anno ci ritroveremo nella stessa nella stessa situazione quindi la lotta è necessaria la vittoria è possibile perché abbiamo già visto appunto che anche la superpotenza militare americana è stata costretta a una resa una figura ignominiosa si tratta di costruire quello strumento politico organizzato che rappresenta in maniera coerente da l'indicazione ai lavoratori alle lavoratrici di qual è il futuro di qual è il cammino che bisogna seguire e di quale è la società e che tipo di società vogliamo costruire una società socialista appunto in cui la proprietà sia in mano i mezzi di produzione siano in mano i lavoratori che siano i lavoratori a decidere cosa produrre invece di produrre portaerei e summergibili nucleari si producano medicinali per guarire dalle malattie si creino luoghi di lavoro sani e salubri si crea appunto una società che non devasta l'ambiente e che non ci porta alla catastrofe perché se la catastrofe non sarà militare ormai tutti sanno che sarà una catastrofe ambientale climatica ecco il tempo sta scadendo ma ci sono le possibilità per far sì che la svolta venga in maniera in tempi brevi quindi questo penso che è un po' il bilancio che possiamo fare di questi vent'anni e l'invito che io mi permetto di lanciare anche a nome del partito a chi al momento oggi ci conosce ci apprezza ci segue di fare quel passo quel piccolo passo ma molto importante appunto per sostenerci in questo progetto ed aiutare l'umanità a liberarsi grazie grazie